Ma noi siamo cittadini straordinari, solo che sono stati messi all'angolo. Qui c'è in gioco l'economia del Paese. A settembre ve ne accorgerete, anche chi non si pronuncia, che si deve pronunciare, perché c'è in ballo, c'è in ballo veramente il futuro di dieci anni dei nostri figli. C'è in ballo e a settembre ve ne accorgerete. Voi che non avete mai parlato.